Ciao stelline, bentornate sul canale. Oggi c'è lo speciale per i 500 iscritti come avevo detto e ho deciso di creare i miei personaggi con l'intelligenza artificiale che ho trovato quest'app e insomma fa personaggi molto carini e ho voluto provarla. Ma per adesso creo i miei personaggi, poi per il prossimo episodio, sì perché magari ne faccio anche altri, mi potete chiedere chi volete. Allora è molto semplice, qui scrivo quello che voglio creare, inizio da Rebecca, sì, quindi scrivo ragazza con i capelli. Rossi a caschetto, per far capire che sono corti e con gli occhi azzurri, così. Allora, bene, poi qui sotto posso scegliere lo stile. Ce ne sono tanti. Direi di scegliere anime, che è uno degli stili migliori. Così, vabbè, poi c'è la pubblicità. Ed eccola qui! È molto bella! È venuta bene. Bene con gli occhi azzurri. Perché se chiedi troppe cose con troppi colori, certe volte li confonde. Questa è venuta bene. Prima c'era solo la pubblicità per farlo, devi vedere la pubblicità o se no devi pagare. Va bene, ecco, questa è Rebecca. Adesso creo Elisava. Sì, allora, togliamo questo. Ragazze con i capelli rosa, riccioli. Magari fa niente se non sono legati nei due codini. Anche lei ha gli occhi azzurri. Scrivo che ha la pelle un po' più scura. Allora. Bene, per lei cambiamo stile. Vediamo. Ce ne sono molti. Proverei questo, che è lo stile di quest'app. Ok, vado. Eccola qui, Elisa. Sì, i capelli sono venuti un po' fucsia, ma vabbè, ci sta. La pelle, vabbè, un po' troppo chiara. Gli occhi sono giusti. Però i riccioli va bene, anche se non sono legati. E' bella, dai. Questo è un altro stile, appunto. Bene. Adesso faccio un maschio, va? Sto facendo tutti... Faccio quelli della serie di Rebecca. Mi sono venendo in mente quelli. Poi per il prossimo magari faccio quelli dell'altra serie. Allora. Scrivo. Faccio Jacopo. Allora, ragazzo, con i capelli beige. Con gli occhi marroni. Il beige con gli occhi marroni. Ok, basta. Come stile... Vediamo. Proverei questo, cartoon cyberpunk. Ok. Ecco qui Jacopo. Bene. Beh, i capelli non li ha proprio così. Lui li ha... Cioè, rasati ai lati, li ha sopra, ma vabbè. Gli occhi, sì, un marrone, sembrano tipo più gialli. Però molto bello anche questo stile. Molto bello. Adesso creo Justin. Adesso creo Justin. Allora. Allora, lui ha i capelli neri. E... Gli occhi li ha anche marroni. La pelle li ha un pelino scura, ma... Vabbè, ma perché... Tanto non capisce. Per lui stile... Provo questo. Sì. Ecco qui Justin. Ok. I suoi capelli non sono proprio così, però... Bello lo sfondo. Davvero bello. È venuto bene con gli occhi marroni. Sì, ha la pelle leggermente più scura, ma vabbè. Anche bello come vestito. Wow. Davvero fantastico. Bene. Adesso voglio fare Chloe. Allora. Ragazza con i capelli marroni. Con gli occhi azzurri. Però lei specifico. Vestita di nero. Per il suo stile... Vediamo. Ce ne sono tanti. Qua in fondo non è che fanno impazzire gli stili. Magari provo film noir. Che non l'ho ancora provato sto stile. Mi sa di qualcosa di scuro per il suo stile. Ok. Ecco Chloe. Cioè... Sì, è giusta per i capelli. Anche se... Vabbè, gli ha un po' boccoli. Cioè... L'unica cosa che non mi convince sono sti occhi. Sì, sono azzurri. Ma perché sto sguardo? Non so. Sembra... È inquietante. Almeno l'avessi da di nero e... Vabbè, lo sfondo. Niente di che. È carino anche questo stile. Bene. Per oggi direi basta. Ritemi nei commenti se vi piace questo format. Se... Insomma... Vorrei crearne anche altri. Farò altri episodi. Vi ringrazio ancora tantissimo per aver raggiunto i 500 iscritti. Però, insomma, se qualcuno qui non si è ancora iscritto, lo faccio perché vorrei arrivare a mille iscritti per poter fare le live. Perché a me ne servono mille. YouTube ne vuole mille. Lasciate like al video se vi è piaciuto. Potete chiedere dei personaggi per il prossimo episodio. Cioè, o della mia serie, o di qualche cartone, film, magari qualche personaggio famoso. Chi volete. Ciao, alla prossima. E... Ah, poiché vario l'episod... Cioè, l'orario degli episodi... Devo ancora decidere. Ma vi dirò tutto con un post. Ciao.